Il primo giorno che abbiamo messo piedi in questa scuola, abbiamo avuto un unico obiettivo. Diventare i migliori chef del paese. Per raggiungere il nostro obiettivo, abbiamo bisogno di creare una ricetta unica, grande quanto questa città. Una ricetta che sia ronta. Voi dovete aiutarci a trovare tutti gli ingredienti segreti di questa città. Beh, sembra un'impresa ambiziosa. Dove dovremmo cercare? Nelle vostre case, nei vostri quartieri. Nessun problema, il mio quartiere lo conosco come le mie tasche. Tra i monumenti, nella storia e negli angoli più nascosti della nostra città. Potete contare su di noi. I nostri occhi arriveranno ovunque. Nessun problema, il mio quartiere lo conosco. Nessun problema, il mio quartiere lo conosco. Allora ragazzi, cosa avete trovato? Io ho trovato paesaggi molto diversi. Noi invece, nazionalità e culture molto diverse. Bene, ma non basta. Avete trovato altro? Noi abbiamo trovato anche degrado e sporcizia. Sì, ma anche bellezza e storia che si trova ovunque, dal centro alla periferia. Ottimo! Mettiamoci al lavoro. Eccola! Stupenda e misera città che mi hai fatto fare l'esperienza di quella vita ignota fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. Sì, grazie. L'ho fatto? La città? Sì. La città? È fatto la città? Sì. È lui. Non è che... Ogni volta è sempre un casino andare a scuola e vengo in ritardo. E' stato top, 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 top. Andriana, me ne ho sbagliato a Andriana. E io ho capito tutto quanto, tutto la mia vita, perché poi io non ho capito a Niene. Faccio a Filippina, a Calinza, a Manila, noi andiamo a Italia. Per farci questi video, non ho scelto questo, ci siamo già incontrati, con le darguerite questi video. Sì, sì. Me ne ho sbagliato a Andriana, io sono Ucraina, io sono andato, io sono andato, io sono andato. Allora che fiamo per buon anno a tutti? Olè! Grazie a tutti! Grazie a tutti!